Rimedi naturali e casa per la sciatica. La sciatica è il dolore causato da irritazione o compressione del nervo sciatico. Di solito colpisce solo una parte del corpo, ma tende ad essere grave e debilitante. Il dolore di solito si estende dalla parte inferiore della schiena alla parte posteriore della coscia e giù attraverso la gamba. Può essere accompagnata da sintomi come bruciore o formicolio lungo la gamba, dolore lancinante che provoca difficoltà in piedi o seduti, e intorpidimento e debolezza lungo la gamba colpita e anche nelle dita dei piedi. La sciatica è più spesso causata da un'ernia del disco scivolato. Può anche essere causato da problemi come una lesione spinale o infezione, malattia degenerativa del disco, la gravidanza, stenosi spinale, spondilolistesi istmica e sindrome del piriforme. Anche se ci sono molti trattamenti convenzionali per la sciatica, essi possono alleviare solo il dolore temporaneo. Inoltre, la maggior parte delle iniezioni di steroidi possono causare gravi effetti collaterali. È possibile utilizzare alcuni rimedi casalinghi e terapie naturali, nonché per ridurre l'infiammazione e la pressione sul nervo sciatico irritato. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il problema va via con il tempo, circa sei settimane, e di riposo. Qui ci sono alcuni rimedi casalinghi per la sciatica. Impacchi caldi o freddi. Utilizzando impacchi caldi o freddi può aiutare ad alleviare il dolore e l'infiammazione sciatica. Il trattamento termico rilassa i muscoli tesi che potrebbero essere la compressione del nervo sciatico. Trattamento a freddo riduce il gonfiore intorno al nervo e intorpidisce anche il dolore. È anche possibile il calore si alternano e freddo, a partire dalla impacco caldo e termina con l'impacco freddo. Quando si utilizza il calore, utilizzare il calore umido come un asciugamano al vapore in quanto è più efficace. Posizionare un impacco caldo o freddo sulla zona colpita per 15 a 20 minuti. Fate questo ogni poche ore fino ad ottenere sollievo. Non usare impacchi freddi se avete problemi circolatori. Curcuma. La curcuma è un altro rimedio naturale efficace per la sciatica a causa delle sue proprietà anti-infiammatorie. Esso contiene un composto chiamato curcumina che aiuta a ridurre il dolore e l'infiammazione del nervo. Aggiungere uno cucchiaino di curcuma per una tazza di latte. È inoltre possibile aggiungere una piccola stecca di cannella. Far bollire la soluzione. Addolcire questa bevanda sana con miele e bere una o due volte al giorno fino a vedere un miglioramento. Un'altra opzione è quella di prendere da 250 a 500 mg di integratori curcuma tre volte al giorno per diverse settimane. Consultare il proprio medico prima. La curcuma può non essere adatto per coloro che prendono anticoagulanti o farmaci per il diabete. Coloro che soffrono di calcoli biliari dovrebbe anche evitare. Massaggio. La terapia di massaggio può alleviare il dolore sciatica e anche aiutare il corpo a guarire se stesso, soprattutto se il problema è causato da uno spasmo muscolare. Aiuta a lentare la tensione, stimolare la circolazione e aumentare la gamma di movimento. Un'altra opzione è quella di aggiungere tre cucchiai di polvere e di noce moscata a 1 tazza di olio di sesamo. Scaldare la miscela. Lasciare raffreddare e massaggiare la zona colpita con esso quando è piacevolmente tiepida. Fate questo un paio di volte al giorno per un paio di settimane. Si può anche prendere in considerazione la terapia di massaggio Trigger Point, almeno una volta al giorno. Dolore nella parte bassa della schiena, glutei e parte delle cosce è spesso associato con punti Trigger nel gluteo medio e minimus muscoli. Esercizi. Oltre al resto, mantenendo la normale attività è estremamente utile per trattare con sciatica. Un giorno o due dopo una sciatica di vampare, è possibile avviare un programma di esercizio fisico regolare per rafforzare la muscoli addominali e dorsali. Rafforzare i muscoli del core aiuta a facilitare il recupero rapido. Si può fare ginocchio al petto stretch per contribuire a ridurre l'irritazione del nervo sciatico e migliorare la flessibilità della parte bassa della schiena. Sdraiatevi sulla schiena su una stuoia con i piedi dritti e hip larghezza delle spalle. Mantenere la parte superiore del corpo rilassato e piegare il ginocchio destro verso l'alto con una inspirazione. Stringere le mani dietro la coscia e tirare delicatamente verso il petto, per quanto è comodo. Mantenere l'altra gamba piatta sulla superficie. Mantenere questa posizione per 20 secondi con respiri profondi controllati e quindi abbassare la gamba delicatamente. Passare le gambe e ripetere. Ripetere 3 a 5 volte. Infine fare questo esercizio con entrambe le gambe da 3 a 5 volte. Capsaicina crema. Pepe di Cayenna contiene un ingrediente chiamato capsaicina attivo che funziona come un antidolorifico naturale. Aiuta riducono i livelli di un neurotrasmettitore chiamato sostanza P, che trasporta i segnali di dolore. Comprare una crema o pomata contenente 0,025% al 0,075% capsaicina. Applicare sulla zona interessata fino a 4 volte al giorno, almeno per una settimana. Crema o unguento capsaicina possono causare inizialmente una sensazione di bruciore. Non applicare sulla pelle rotta. Tè valeriana. Radice di valeriana funziona come un rilassante e allevia il dolore del nervo cronico. È particolarmente indicato per alleviare il dolore sciatica causata da uno spasmo muscolare. L'erba contiene oli volatili che aiutano a rilassare i muscoli e alleviare la tensione. Esso è comunemente usato come un aiuto di sonno pure. Prendete 150 mg di radice di valeriana supplemento 3 volte al giorno per un paio di settimane. Consultare il proprio medico prima. Si può anche bere il tè valeriana preparato da macerazione. 1 cucchiaino di radice di valeriana essiccata in 1 tazza di acqua calda per 10 minuti. Bere questo tè di erbe diverse volte alla settimana per un paio di settimane. Corteccia di salice bianco. Corteccia di salice bianco può essere utilizzato anche per alleviare il dolore di lunga durata. Esso contiene glicosidi fenolici con salicina, fornendo benefici anti-infiammatori e analgesici. Prendete un supplemento bianco corteccia di salice di 120 o 240 mg al giorno salicina per diverse settimane. Consultare il proprio medico prima. Semi di fieno greco. Un impiastro preparato da semi di fieno greco può anche contribuire a ridurre il dolore sciatica, grazie ai suoi benefici anti-infiammatori. Calma anche artrite e gotta dolori reumatoidi. Grind una manciata di semi di fieno greco. Far bollire la polvere con latte a sufficienza per ottenere una pasta molle. Applicare sulla zona dolorante come un impiastro. Lasciare per un paio d'ore prima di risciacquare fuori. Ripetere ogni giorno fino ad ottenere sollievo. Agopuntura. L'agopuntura è un altro trattamento naturale efficace per alleviare il dolore sciatica, rilassare i muscoli e aiutare il corpo a guarire se stesso. Un'altra teoria è che, stimolando alcuni punti di agopuntura, il sistema nervoso centrale è anche stimolata, a sua volta innescare il rilascio di sostanze chimiche che o cambiano la percezione del dolore o di produrre un senso di benessere. Manipolazione spinale. La chiropratica è un trattamento naturale sempre più popolare per il collo e mal di schiena. Chiropratica manipolazione spinale comprende diverse tecniche che coinvolgono rapidi, brevi spinte per alleviare irritabilità nervosa responsabile per l'infiammazione e altri sintomi associati con sciatica. Suggerimenti. Non fare movimenti bruschi. Adottare una buona postura per alleviare la pressione sulla parte bassa della schiena. Pratica tecniche di sollevamento con la schiena dritta e le ginocchia piegate. Dormire su un materasso che non è né troppo duro né troppo morbido. Fare regolarmente esercizio fisico, ma non impegnarsi in esercizio intenso. Evitare il fumo di sigaretta in quanto favorisce la degenerazione del disco.